Le dirò, noi adesso abbiamo costituito una commissione medico-scientifica di scienziati medici, tra cui c'è anche un pediatra, sostenuta dal comitato 15 ottobre, quel comitato che è nato a Trieste, diciamo dalla gente, per cercare di far sentire proprio la voce della gente nelle istituzioni. Abbiamo chiesto anche un dialogo con il comitato tecnico-scientifico ai massimi livelli per segnalare proprio uno dei principali problemi è questo. Noi abbiamo stilato un documento con 16 punti precisi, tutti documentati da bibliografia, in cui dimostriamo che il rapporto rischio-beneficio per i bambini e anche per i giovani è sfavorevole rispetto a questa malattia. Proprio lo dimostriamo, ma non è che lo dimostriamo noi, lo dimostra la letteratura. È così, per tante ragioni. Poi perché lo fanno? Perché c'è questa ossessione di fermare l'epidemia vaccinando il 100% delle persone. Quanto questa ossessione sia frutto di ignoranza di epidemiologia, ignoranza di immunologia, ignoranza di pediatria, ignoranza di bioetica, o quanto sia dovuta alla malafede collegata con i circoli economici, finanziari o politici. Io questo non glielo so dire. Per certo sappiamo che i bambini e i ragazzi non sono il motivo della diffusione del coronavirus. Quindi sappiamo anche che se fossero vaccinati il 100% di loro il coronavirus non sparirebbe lo stesso. Questo è uno dei motivi di cui ho parlato anche alla Commissione. Quindi purtroppo la situazione è così. C'è una prevalenza, ma guardi questa c'è stata sin dall'inizio, una prevalenza della politica e della brutta politica sulla scienza. Io tante volte vado a parlare ormai in piazza, soprattutto dopo che mi hanno cacciato via dall'università. Non parlo più nelle aule, parlo nelle piazze. Dico, sentite, io vi dico quello che so, quello che ho studiato. La scienza è calpestata. E noi, dico alla gente che manifesta con me, noi non siamo qua per dire vaccino sì, vaccino no. Non siamo qua per difendere il nostro egoismo, la nostra paura. Siamo qua per difendere la libertà della medicina, la libertà della scienza e quindi alla fine la Costituzione, all'articolo 34, dove dice che l'arte e la scienza sono liberi. Siamo qui per quello che cantiamo anche i fratelli d'Italia. Sono ben contento quando si canta i fratelli d'Italia.